Sta facendo discutere in città il caso delle cartelle per l'occupazione del suolo pubblico fatte ricapitare dal Comune dell'Aquila ad alcune imprese appaltatrici impegnate nella ricostruzione sia pubblica che privata, cartelle che in alcuni casi avrebbero delle cifre da capogiro anche 300.000 euro. La faccenda arriverà anche in Consiglio Comunale perché il consigliere Lelio De Santis è pronto a presentare un'interrogazione in merito. Per i rappresentanti delle imprese coinvolte si tratta di un fatto che rischia seriamente di bloccare i cantieri perché la Corte di Cassazione ha stabilito che sono esenti dalla tassa ai lavori pubblici ma anche quelli privati finanziati dallo Stato da enti pubblici. Il dirigente dell'Avvocatura Comunale De Nardis ha fatto sapere che non è una novità, che la maggior parte delle imprese paga e che si interviene laddove si debbano recuperare tali somme. De Nardis ha chiarito che si tratta di una disposizione applicata in tutta Italia e recepita dal Consiglio Comunale ma intanto si preannunciano ricorsi. Alcune imprese già hanno impugnato i provvedimenti di fronte all'autorità giudiziaria come fatto presente dal legale aquilano Claudio Verini. Se il Tribunale dovesse ritenere l'imposta dovuta alcune imprese peraltro starebbero verificando pure la possibilità di chiedere il rimborso ai proprietari. Insomma una faccenda che è tutt'altro che semplice da gestire. C'è anche l'ance di mezzo l'Associazione dei Costruttori che per il momento non ha voluto rilasciare nessuna dichiarazione ma sembrerebbe disposta a cercare una mediazione con il Comune. Lo stesso Avvocato Verini ha fatto presente che il Comune dell'Aquila sarebbe disposto ad un dialogo. Già sarebbero tre gli avvocati che in città stanno ricevendo mandati per opporsi a queste cartelle.